ciao a tutti io sono statib benvenuto su questo canale oggi continueremo il nostro esercizio di creazione di una rivista con il software scribus prima di iniziare con il video invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video non fate come Hans l'ultima volta avevamo creato se non sbaglio la pagina con il mercatino per cui creato questa pagina qua adesso l'ultima pagina che vado a creare sarà la 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 terza e la quarta di copertina allora per la terza di copertina avevo pensato di mettere una sorta di editoriale che parlerà non so di cose provenienti dal c'è di notizie provenienti del mondo e in questa nella quarta copertina semplicemente un'immagine qualche dato sulla pubblicazione nient'altro prima però mi sembra di aver visto una cosa qui un po qui ho perso perso un riferimento credo delle linee può essere che oppure no non mi ricordo poi guarda comunque una cosa sistemare se qualcosa manca la sistemerà nell'ultima giornata allora cominciamo innanzitutto guardiamo il sommario dove potrei mettere questa cosa la potrei spostare un altro po queste mettere un sommario qui sotto per cui la prima cosa che vorrei fare è quella allora qui al coccino di taglio potrei ancora abbassare tutta questa parte vediamo se riesco no perché è su un altro livello per cui sarà su bande bianche non mi ricordo più adesso andiamo a provare a trovare eccola qua postiamo questa contiamo le battiture così da essere precisi una due tre quattro cinque sei sette 8 9 10 direi una roba del genere qui posso tirarla fino a margine che sta anche meglio così verrà tagliata perfetta e adesso passo al testo per cui livello testo e sposto giù questo ok direi che ci siamo qui adesso mercatino io vorrei andare un attimo a vedere sotto perché c'è la possibilità che sposti una pagina che secondo me andrebbe proprio fatta così praticamente spostare questa pagina a destra e qui mettere l'editoriale che l'editoriale in tazzo di copertina secondo me non è tantissimo allora intanto vediamo se brutalmente posso prendere no devo prendere pezzo per pezzo per cui andiamo individuare dov'è in immagini trovo le bande sicuramente aspettate questo aspettiamo dopo potremmo vedere se qui dentro c'è tutto al resto in testi troverò quasi tutto possiamo fare intanto un bel gruppo spostarlo a destra e vedere cosa rimane fuori poca roba rimane fuori ok non interessa sotto aveva un coperto con un ma si dice con con una pagina mastro ma in realtà non serve la pagina mastro serve più che altro allinearla alla pagina per cui andiamo con il nostro tool che sono un po spostati fuori dalla pagina selezioniamo allinea relativo a pagina e diamo il nostro allineamento centrale che sarà questo perfetto adesso possiamo applicare a questa pagina per cui la pagina 15 possiamo applicare una pagina mastro ma in questo caso io metterei semplicemente delle due bande e il colore senza copiare per esempio verde giardino eccetera eccetera per farlo basta andare in pagina destra rivista e selezionare i tre oggetti che ci interessano e copiarle solamente quelli per cui andiamo qui andiamo a vedere in immagini dovrebbe essere qui dentro esatto 1 2 3 facciamo copia torniamo sul nostro schema documento alla pagina che abbiamo detto di fare dovrebbe essere proprio questa vediamo se questa o questa no 17 e incolliamo il nostro il nostro i nostri elementi grafici adesso li adattiamo perché questi sono più grandi ok andattiamoli meglio qui dovrebbe esserci dovremmo aggiungere aggancia alla guida alla guide per cui ecco che lui si aggancerà perfettamente lì e questo andrà a agganciarsi alle guide lì perfetto selezioniamo un attimo queste questo qua e anche qui ma scusate non le ho non le ho raggruppate allora facciamo una cosa fatta bene qui dobbiamo metterle in questa posizione ok allineiamo perfettamente qui questa zona questo va allineato centralmente alla pagina vediamo adesso dove è andato so che me l'allina di là quando invece dovrebbe anninarmela da 15 ecco qua adesso me l'allinata giusta perfetta vedete e adesso sistemiamo anche questa di qua troppo bassa perfetta qui c'è una banda azzura che invece non è perfettamente allineata adesso andiamo a pescarla sempre guardando dovrebbe essere sempre in testi possiamo separare perché prima abbiamo fatto un gruppo e adesso andiamo ad allinearla in maniera migliore ok stessa cosa di la ok qui c'è un difetto non ho capito perché ma c'è un bianco che non capisco da dove arriva ah una pagina sotto ok andiamo a vedere la cosa va a coprire questa pagina vediamo cosa succede se lo tolgo ah rimane quella sotto ma potrei semplicemente andare da quella sotto e cambiare così eliminiamo un oggetto e diamo semplicemente il bianco white e siamo così anche se non mi dispiace colorino un po più giallino ah ma qui c'era da da sì sì ok mi ricordo perché perché c'era da sistemare questa cosa in realtà facciamo una cosa fatta molto meglio andiamo a selezionarci l'immagine e la elaboriamo perché altrimenti ci portiamo sempre dietro sta cosa qua non riuscirà mai a selezionare bene però quando si vede il poligono qua il poligono di là il poligono su ma perché allora me la metto nella pagina 17 che se non sbaglio 16 e 17 dovrebbe essere questa pagina no allora scusate 17 e 18 dovrebbe essere questa infatti nella 18 non c'è niente nel 2017 ah perché li ho copiati dalla pagina sinistra ok nessun problema adesso io faccio un bel seleziono tutto qui selezionato anche qualcosa che non mi tocca allora uno due ecco questo non lo tocco posso mandarlo sotto uno due ok 3 ok 4 ok 5 6 questo qua cos'è non lo vedo selezionato il testo centrale ha il testo centrale ok il testo centrale gruppo 8 8 di qua 8 di là immagini di qua e immaginita di là perfetto questi li possiamo tutti gruppare perchè non mi dice la gruppa no perchè sono strani allora perchè sono sulla era diversi sicuramente quindi la gruppa è fatta vedete e via mattini via la biblioteca e via non ci interessa normalmente il poligono che è questo qua noi possiamo copia taglia andiamo su pagina 17 e incogliamo adesso lo spostiamo da un lato giusto scusate ma vedo c'è stato un casino con i livelli perfetto possiamo anche allineare nel senso verticale così vedete si allinea perfettamente adesso c'è un gruppo che lui considera in pagina 16 c'è in questa pagina copia taglia andiamo in pagina 17 e incogliamo a questo punto basta allineare la pagina e siamo già a posto perfetto di là rimangono il testo 1 il poligono che va copiato tagliato spostato e andiamo in pagina 17 e lo incogliamo da questa parte perché lo incolla di qua non capisco aspetta taglia pagina 17 ok adesso lo metto di là ah ok considero appena appena di qua ho capito perché appena tocco la pagina di là e lui me lo mette di là vabbè non è così comunque sai cosa te lo lasci di là e sei a posto adesso lo spostiamo a mano penso a te da qua la cambia vedete cambia livello allora sapete cosa faccio tiro via questo tiro via questo poligono centrale lo tiro via poligono laterale lo tiro via e applico la pagina mastro così se la montagna non va se la montagna non va no ma ho metto non va la montagna la montagna appado ma ho metto applica pagina mastro pagina destra rivista eccola qua e siamo tutti più contenti adesso volevo innanzitutto poi andare qui aprire questo gruppo per cui separa e andare a elaborare l'immagine per cui questa immagine qua modifica immagine adesso dovrebbe in teoria aprire game plan infatti intanto che lui apre questa la flippo e la metto dall'altra parte per il tempo fuori troppo micro spostamenti perfetto andiamo a vedere gift cosa fa ok adesso mettiamo un bel canale alfa aggiungiamo canale alfa e poi selezioniamo quello che dobbiamo adesso dobbiamo cercare di trovare il parametro giusto troppo poco uno intanto sai cosa faccio intanto metto una bella maschera che poi va a finire che ecco fate sbagliare subito allora seleziona nulla mettiamo una bella maschera con selection la mettiamo dopo la maschera allora io quasi quasi a questo punto fare proprio uno scontornamento naturale tutto più facile perché sennò divento matto io ascolto ma senza riferimento fatto bene diciamo che più o meno così e poi sarà da migliorare e poi sarà da migliorare ok e poi sarà da migliorare qui adesso io qua faccio uno scontorno al mio entos di quelli brutali e poi faccio uno scontorno al mio entos di chelli brutali ora abbiamo finito diamo ok adesso trasformiamo la selezione come dice qua in maschera e hop la siamo belli e finiti a questo punto invece di esportare come jpeg facciamo esporta us qui cambiamo mamma si metto a pensare no cambiamo il png che come sapete mantiene il canale alfa sport blu 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 lui penserà un sacco di roba e noi intanto andiamo a caricare un'altra immagine che sarà l'immagine 360 vediamo se non l'abbiamo cambiata come nome no l'abbiamo cambiata come si chiama questa immagine social esported vediamo pqrs sarà questa et voilà abbiamo risolto il problema dello sfondo direi che siamo a cavallo non trovate? bene adesso facciamo l'ultima che era quella che dicevo la sorta di editoriale diciamo così che si chiama dal mondo curato da autore che adesso andiamo inventarci copia incolla e vittoriale 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 verde ok adesso qua la facciamo diventare grande per cui testo mettiamo un bel editoriale verde così no aria andiamo per scarci dentro vg consolata orrendo inc free inc free bel inc free ci piace interlinea fissa regola vediamo non abbiamo un'altra posizione vabbè va troppo editoriale verde qui metteremo poi sotto secondo di mario rossetti che andiamo a allineare invece a destra troppo si troppo a destra metteremo una cosa così ecco così mi piace allineata al centro però centro pagina per allineare useremo ovviamente le light non le proprietà del testo perché quelle si rifanno proprio il testo e basta tiriamo via il colore del fondo mettiamo proprio un box colorato per cui track track nessuno bel box colorato invece sotto anzi dobbiamo metterlo perché altrimenti si vedrà verde giardino per cui un bel colore editoriale ciano mettere un marrone che non ne ho ancora messi ma rimettere anche un grigione a dire la verità grigio opposto no grigio di questi qua grigio così mettiamo via par al bordo e abbassiamolo nella sua eccolo qua nella sua versione all'interno dei layer la sua versione nella sua parte eccolo qua l'editoriale versetti è un po' troppo bianco vediamone un po' un colore un po' più iscritto ah nel bordo mi sbaglio sempre questa cosa mare rossetti bravo dove parla di cosa parla mare rossetti parla di parla di qui vedete che parla di deforestazione in amazione per cui andiamo su un nostro google cerchiamo un articolo da copiare su magari wikipedia così che non infrangere nessuna legge del copyright deforestazione po 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 e termina la descrizione di daniela franca a trovare uno schermo e ritmo del bloccamento eccolo qua copiamo queste due ultime sezioni poi il testo ovviamente non è tenuto qui potrei allora lasciare il testo allineato a sinistra come titolo però piccolo un 18 si deforestazione eh però mi dovrebbe scrivere deforestazione però scusate perchè non ho mantenuto il font eh perchè bisogna scrivere così beh capito deforestazione e impatti sui nostri giardini proprio un titolo no sense vabbè comunque ma mi mi eccolo qua piccolo proprio piccolo andiamo la sezioniamo così facciamo 14 vediamo perfetto veramente a sinistra punto ecco qua eh 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 ah no e tatatà qui ti che vorrei una eh qui anche eh qui anche anche qui anche qui anche qui adesso creiamo un secondo rettangolo e andiamo ad allineare questa volta a destra e continuiamo ah eh scusate no il contrario ecco che l'ho fatto ok scusate perchè a questo andiamo all'incaro a questo qua vediamo no non l'ha preso bisogna fare questa cosa la potrebbero però sistemare cioè devo poter mirare con lo strumento in maniera intelligente non così forse è finito il testo vediamo no ma dovrei averne secondo il rapporto FAQ secondo il rapporto FAQ a tre righe eh no manca qualcosina qua diciamo cosa in più dai allora eccola qua collegata c'è un altro pezzettino ma qua la taglio qua sapete cosa metto metto proprio una cosa che va sempre messa secondo me in questi casi che è la data semplicemente niente di più punto 20 11 2021 non è la di oggi lo assicuro ma va bene lo stesso bel cosa questo lo orientiamo a destra invece che va di là perfetto adesso qua visto che come al solito c'è questo problema di ammigamento abbiamo un nuovo stile anzi applichiamo uno già esistente perché comunque applichiamo lo stile allora paragrafo degli articoli vediamo ok adesso questo qua si chiama no si chiama ink free cambiamo il titolo qua e siamo a posto abbiamo una battuta qui iniziato sotto troppo troppo vediamo via la riga giusto per far avvicinare eccolo qua eccolo qua questo è il il nostro articolo qui non metterei foto anzi tomano anche qua anche perfezione qui non metterei foto o meglio magari potrei mettere una piccola foto nel titolo magari in foresta vediamo foresta vediamo se trovo due proprie immaginette piccole o meglio la stessa immagine potrebbe essere questa si molto bella se ve la faccio vedere questa qua da mettere solamente di fianco e basta salvo immagine con nome e mettiamo foresta conifere va già bene ok adesso andiamo qua creiamo due bei box immagine che sono questi mettiamo uno qua e andiamo a scegliere la nostra immagine si chiama foresta conifere a questo punto aggiustiamo un attimo l'immagine facciamo adatta ma ovviamente non la lasciamo così andiamo a indicare le proporzioni aggrandire la nostra forestina e dopo magari possiamo ridurre questa da una parte e questa dall'altra questa la ovviamente andiamo a realineare la pagina e poi facciamo copia e incolla e questa la mettiamo dall'altra parte è troppo grande perché si mangia un po' della firma del nostro autore facciamo così e la rimettiamo al centro ecco massimo farà una roba così perché di solito l'editoriale non ci sono tante foto e va lasciata abbastanza c'è un testo da leggere insomma ecco così bene a questo punto dobbiamo fare l'ultima robina che è invertire l'ordine e mettere il nostro sommario in ordine corretto quindi andiamo su mettiamo mercatino mettiamo sommario anzi scusate editoriale per cui edito variale poi mercatino qui dobbiamo mettere come stile indice titoletti 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 yuhu beccato il promo colpo un bel tab e pagina 10 adesso qua c'è qualcosa che non va ah perché non è 10 ma è infatti c'entra niente ecco la rivista non è il mercatino che è rimasto sì in pagina 13 ma avrebbe proprio cambiato tutta la situazione perché allora questi due qua adesso piante 10 11 12 13 14 per cui 12 lo shop comincia qua in pagina 8 9 10 per cui pagina 10 pagina pagina 10 pagina vediamo vedere ok per cui da 10 14 vedete che c'è mercatino per cui da 10 esatto 11 12 13 no 14 non c'è mercatino ma 14 c'è editoriale vedete allora piante pagina 10 10 e 11 eh no vedi che c'è anche 11 poi qui qui abbiamo messo a posto proprio tutto allora piante fino a barbatelle pagina 10 ah 10 e 11 vedi qui andiamo sui livelli testi ci dovrei essere se barbatelle pagina 11 semi pagina 11 chissà perché non posso far così devo sempre mettere in mezzo va bene qui mettiamo di là 11 poi si è bianche e false sei bianche le sepi pagina 11 dai adesso rientra subito senza far tante storie non fare il difficile perfetto pagina 11 poi attrezzi attrezzo attrezzi e vasi pagina 11 poi c'è tearecci attrezzi e vasi pagina 11 poi tearese pagina 12 però pagina 11 non c'è tutta sta roba che ho scritto vediamo attrezzi e vasi solamente quello vai qui dobbiamo mettere come stile titoletti e possiamo tirare via anche un attimo a vedere no contrario in realtà non tutti i titoletti ma tutti i titoloni no attrezzi pagine testo stile titoli e anche vasi stessa cosa ops titoli poi c'è quanti questi qua vanno cancellati tutti anche questi questi facciamo neri non so perchè li ha fatti bianchi bla 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 colore colore black doveva essere black non vedo perchè perchè li fa bianchi ok era un errore dai quindi diamo uno spazio di battitura qui ne togliamo invece uno ok sistemato andiamo a vedere a 12 poi attrezzi poi cominciano i tarricci i concimi i concimi questi sono tutti i titoli fiori ok coccine abbiate grasse cicatrizzanti questo qua non è più nella rivista ok perfetto adesso vado a copiarmi intanto in memoria questo che diventa però molto più corto giusto ok copia a questo punto eccolo qua le vado a ditarlo mettendo dentro innanzitutto questa parte qua che non fa parte dello shop ok vado accorciarmi il box bianco che all'interno di immagini ok lo finisco lì e anche il testo il testo 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 che è dentro il testo prima eliminiamo il 14 se no ce lo tireremo sempre dietro ok possiamo allineare lì questo tanto non si vedrà a questo punto continuare con il come si dice con la lista del mercatino insomma perfetto perfetto la lista del mercatino che però buone e si dice il testo bianco per cui selezioniamo testo black no andiamo su white e direi che siamo carini da matti quindi questo punto possiamo accorciare il nostro box di testo qua in modo che continuiamo la nostra il nostro sommario andiamo a ritoccare innanzitutto ancora un po l'immagine perché lo voglio proprio corto di così e poi testi stessa cosa voglio tirare non posso così vediamo se pare meglio non fare un pettino più lungo il la cornice bianca non so perché mi fa un pò mi lascia un pò perplesso diciamo ecco secondo me così va bene adesso qua inseriamo l'editoriale l'editoriale andiamo a vedere editoriale mercatino no mercatino editoriale e abbonamento di vista il mercatino dovrebbe stare sopra lo shop per cui uno dei due va lasciato la il numero uno editoriale mercatino cioè il mercatino editoriale invece sparisce via sotto testi editoriale anzi guarda mi copio così copia e lo tolgo a questo punto non vorrei dire ma credo che il mercatino va in pagina 9 qua posso tirarmi uno spazietto bello posso allora sistemarsi a questo un pò più in su sia i titoli un pò più in su se i titoli non lo faccio così riesco anche a vestire un pò meglio a questo punto qui prima delle riviste devo mettere editoriale esatto questo sarà anche qua 14 però editoriale a questo punto mi rimane il 9 prima del 10 non va bene torniamo indietro qua ho fatto una cosa che non è andato affatto ma scusate non è l'editoriale che punto è allora eh no l'editoriale quindi 14 che sto di che sto di sto impazzendo scusate niente non è l'editoriale che non è andato 15 ed è l'editoriale ed è l'editoriale ed è l'editoriale rivista ed è l'editoriale rivista ed edizione petardo non è più il titolo non lo possiamo proprio levare perché anzi questo qua in realtà diventa il contrario diventa blablabla testo chop titoletti e a queste qua alla fine non servono più i toletti white e siano a cavallo indice titoli ecco ho lasciato fuori la e sia mai e la stessa cosa anche qui dice titoli ok allora potremmo mettere per esempio questo andiamo a vedere un attimo mercatino verde c'è sporco editoriale grigio e magari questo facciamo li cambiamo in rosa con le due bande di adesso vi spiego perché così posso abbinarci anche ecco qua 1 e 2 li cambiamo in rosa così posso abbinarci in cambio di colore del titolo di me la ne so male per cui insomma andiamo un bel gialletto questo già che ci sono anche lo metto proprio al centro e adesso andiamo sulla nostra prima dove c'è il mercatino vediamo bel coloretto anche qui gialletto no il coso però usate qui regola white dove è gialletto sarà in yellow gialletto qua vediamo o niente non mi vuole prendere le due cose c'è anche la m dai giallino mentre editoriale lo mettiamo in grigetto editoriale è sempre una roma si vede poco ma ci sta che si vede poco per tanto l'editoriale lo legge di solito chi ha intenzione di leggere gli altri non lo leggeremmo mai basta io direi che ci siamo andiamo a vedere che ci sia tutto all'interno di dell'editoriale io direi che si l'unica roba che mi infastidisce sempre è vedere questa cosa qua cioè di solito io questo lo farei continuare sotto il titolo che vuol dire che adesso ho perso una riga e che vuol dire che adesso non voglio recuperarla bebe be 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 canvas e che ne so questa allora più pare di cosa sto cancellando ma secondo me va bene così direi che può andare ovviamente non si fa così quando fate gli articoli non è che potete tagliare articoli così ma se non avete capito dai dimenticavo la prossima volta faremo l'ultima di copertina e poi andiamo a risolvere tutti i problemi che ci saranno in giro poi li abbiamo risolti oggi ma sicuramente ce ne saranno ancora dopodiché diciamo che la rivista è bella che è finita dopo sarà un video che riguarda questa cosa qua la 157 faremo un po un un'analisi di di cosa hanno messo insomma queste nove versioni diventerà comunque la decima fra poco dovrebbe uscire proprio la 1.5 definitiva per cui c'è una 1.6 scusate definitiva per cui ci sono stati aggiornamenti molto importanti andremo a vederli perché molte delle cose che abbiamo fatto in questo video in questo tutorial qua in questo lavoro qua che lo risolverà alla grande la nuova versione di Scribus senza dover impazzire bene il lavoro che abbiamo fatto oggi è stato molto più semplice insomma dei lavori che facciamo che abbiamo fatto solitamente però abbiamo anche risolto un sacco di problemi il video finisce qui grazie per averlo visto e alla prossima